E' la partita che ha monopolizzato l'attenzione di media, i giornali, i giorni scorsi. Ho tanti elementi di spicco da una parte e dall'altra. Sono tanti i giocatori che possono deciderla con le loro giocate. Pochi minuti per il calcio d'inizio. Noi siamo pronti e anche emozionati qui in cabina di commento perché questo è davvero un gran match. Preparatevi, si parte. Quando è pronto a partire è iniziato il conto alla rovescia. Pioggia che non ha risparmiato San Siro. E' tutto pronto qui a Milano. Un grande benvenuto agli amici da casa. Pier Rugipardo e Lelia Dani sono pronti a raccontarvi l'emozione di questa sfida. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. In campo le formazioni di Milan e Sassuolo. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pier. Personalmente sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Oppure la QTSS l' pasado. Come and Wong! Come and memories! Alloni! Buongiorno! Come and Xiang. Come andến! Come and 행 uppersi. Come and vedere! Come andihen Poly! Grazie a tutti. 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 E c'è il secondo gol in pochi minuti. Partita completamente cambiata. La Regia ci ripropone l'azione del gol. Il frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. A tu per tu quel portiere lo ha culminato con una conclusione potente sulla quale l'estremo difensore non ha potuto nulla. Poteva scegliere una soluzione più elegante forse. Sarà per la prossima volta dai. Match che riprende, ha allungato portandosi sul 2-0. Occhio al coaster Bappé. Pallone che viene allontanato. Si immola su questo tiro. Prima metà di gara che sta per esaurirsi, risultato che sorride alla squadra di casa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.